Ciao ragazzi, in questo video vi spiegherò come memorizzare alcuni tasti del telecomando su quelli del decoder. I tasti da memorizzare sono quelli che entrano in questa linea, esattamente il volume meno e più, il tasto di accensione e spegnimento della televisione e il tasto TVAV che memorizzeremo nel tasto Search. Come prima procedura dobbiamo premere il tasto del decoder fin quando il lambeggio non cambi. Perfetto, adesso il telecomando è nello stato di memorizzazione, mettiamo i telecomandi uno di fronte all'altro e premeremo i tasti che vogliamo memorizzare incontemporaneamente. Ripremiamo di nuovo. Quando il lambeggio cambia significa essere memorizzato, perfetto, tasto più, tasto meno, accensione e spegnimento della televisione e per finire www.source.tv.ab. Perfetto, così abbiamo memorizzato i nostri tasti che ci servono. Grazie e per una buona portata.